Il 12 aprile del 1945 gli aerei bombardarono Ponte Vigo d'Arzere. Furono 52 le vittime, veri e propri eroi civili ai quali dedicata un'edicola funeraria, un luogo della memoria nel cimitero di Torre. Oggi però il degrado è totale. Calcinacci che cadono a terra e sulla tomba di Don Antonio Finco, il primo arciprete di questa parrocchia, crepe profonde nei muri dell'ossario, erbacce che crescono ovunque, anche sul soffitto. I cittadini chiedono all'amministrazione Giordani di intervenire. Noi abbiamo chiesto alle varie amministrazioni che si sono succedute in questi anni che ci sia un recupero della struttura e che sia tolta dal degrado per dare dignità ai nostri eroi civili di Ponte Vigo d'Arzere. La concessione per la costruzione risale al 1958 e assegna la cappellina alla parrocchia di Ponte Vigo d'Arzere, che oggi però non ha i soldi per la manutenzione. Ecco perché si chiede all'amministrazione di Padova di facilitare la burocrazia. Chiediamo che si superi queste pastoie burocratiche, per cui a un certo momento che la parrocchia riesca a ridare in concessione al comune di Padova questo ossario dei caduti e che si possa togliere il degrado che affliggono le murature portanti di questa ericola. L'assessore Benciolini ha promesso il suo interessamento, ma nel frattempo passano le settimane, i mesi e i residenti, ma anche le famiglie di queste 52 vittime innocenti, chiedono aiuto. Siamo stanchi di telefonare, di chiedere, di mandare appelli e di sottoscrivere lettere, diciamo così. C'è un discorso burocratico che va superato e che va agevolato. Ricordo che i parenti delle vittime sono tanti anni che cercano anche loro naturalmente di lanciare un grido d'allarme per la risistemazione di questo ossario dei caduti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.